Tanti ragazzi hanno fatto una prestazione che avevamo preparato, sapevamo che il Catania oggi sarebbe stato anche per l'anniversità rispetto alle prese identi gare, disputate gli altri anni. Un Catania più caratteriale, più squadra di serie C, diciamo tra virgolette, e noi sapevamo che la partita era lunga, potevamo sbloccarla da un momento all'altro, soltanto stare bene attenti a sfruttare tutte le piccole situazioni che ci potevamo capitare. Un merito di chi ha giocato dall'inizio, un merito di chi è subentrato perché ci ha dato in campo quello che volevamo. Quindi questa squadra oggi ha risposto da grande squadra, soprattutto perché ha notato una maturità importante.